Anche l'altopiano Selvino Aviatico quest'anno ha l'Illiput, perché avete deciso di essere in fiera? Sì, buongiorno innanzitutto, abbiamo deciso di partecipare a questa fiera per farci conoscere ancora di più alle famiglie bergamasche. Una bellissima opportunità in condivisione con Promo Serio, con Oresse Castagna che ha partecipato, ricordiamo, alla premiazione della 15esima edizione della fiaba di Selvino, un concorso nazionale legato ai bambini e quindi riteniamo importante la nostra presenza quest'anno a questa manifestazione. Come sarete presenti a Lilliput e che cosa proporrete? Abbiamo coinvolto le associazioni del territorio, dell'altopiano, abbiamo studiato il nuovo logo turistico dell'altopiano, per cui coinvolgeremo i bambini presenti e le famiglie proprio anche nella colorazione di questo logo che vedete qui in bianco e nero. Saranno tante le attività che coinvolgeranno i bambini nei quattro giorni, per cui aspettiamo numerose le famiglie a conoscere il nostro altopiano. Abbiamo detto che ci sarà anche Promo Serio. Sì, anche Promo Serio parteciperà insieme all'altopiano Selvino Aviatico a Lilliput, perché la Val Seriana e la Val di Scalve sono due realtà a misura di bambino e di famiglia. Le attrazioni dedicate ai bambini, come i parchi avventura o le attività che organizziamo sul territorio, devono essere scoperte anche dalla città di Bergamo e dalle famiglie di Bergamo. Quindi saremo presenti. Abbiamo coinvolto il patronato San Vincenzo di Clusone, che si è reso veramente molto disponibile a studiare tutto un piano didattico di attività da fare a fare ai bambini durante i quattro giorni della fiera. Per cui parliamo di trucca bimbi, parliamo di palloncini, parliamo di teatralizzazioni della fiaba di Selvino e poi tutta un'altra serie di attività che vi invitiamo a venire a scoprire allo stand.